Salve, sono Gennaro Ardimento, cofondatore di Misteria Dias. La nostra start-up vuole portare in questo evento un progetto sui droni che al di fuori di questo evento, perché sappiamo che sono la maggior parte professionisti di questo settore, noi portiamo un drone che è telecomandato vocalmente, quindi cercare di portare questa tecnologia nella casa di tutti quanti. Quindi un drone capace di essere telecomandato da tutti, solo con il sistema vocale. Questo permette di entrare in un mercato educational e di avvicinare la tecnologia di oggi, soprattutto ai ragazzi. Quindi portare nelle scuole un progetto del genere e far avvicinare la programmazione della robotica e avvicinare alla tecnologia dei droni che dà tante opportunità oggigiorno. Non solo a noi, ma questa tecnologia che stiamo sviluppando, quello del sistema vocale, porta a far entrare in un mercato la maggior parte di persone, quindi rende questa tecnologia la portata di tutti. Il nostro progetto si chiama Marfi e il drone sarà un pacchetto, un insieme di idee, un insieme di risorse tecnologiche. Questo drone potrà far parte anche di una strumentazione di ricerca, perché stiamo sviluppando una ricerca verso i disabili che non hanno la potenzialità di telecomandare oggigiorno un drone. e quindi solo con il sistema della voce, quindi richiamando il nostro drone, facendo decollare, atterrare, andando a destra e a sinistra, potrà senza rimanere legati a qualsiasi dispositivo. Quindi Marfi sarà un'estensione della nostra mente e del nostro corpo. La start-up si sviluppa in due rami, sia nel reparto di droni ma sia nelle animazioni. Noi facciamo sia animazioni 3D e sia il reparto aerospaziale che si sviluppa sia in consulenza sia nella tecnologia dei droni. Abbiamo portato qui anche uno dei nostri gadget tecnologici che nell'anno scorso abbiamo introdotto, che sono le Globus che vedete oggigiorno, sono la realtà virtuale. Le VR con certificati Google saranno implementate per sviluppi futuri legati anche al drone. Uno sviluppo futuro che sarà con la visuale, avendo la visuale stessa del drone mentre è in decollo. Questo drone inoltre avrà sviluppato anche alcune altre funzioni, quello di fotocamera e di ricerca online. Quindi potrai realmente parlare a Marfi e chiedere qualsiasi cosa. Abbiamo raggiunto una tempistica durata di 12 minuti e stiamo sviluppando ancora per l'anno prossimo anche un'applicazione di intelligenza artificiale.